Posso vedere il suo accredito. Triestina? Sì. Lega Pro? No, Serie D. Indimenticabili quegli anni? In A, Perugia, Parma? Che cosa? Sì, ho fatto il Cremonese, Torino, Napoli, Inter, poi ho fatto ancora l'Inghilterra. Dove in Inghilterra? A Londra, nel Quispa Rangers. Che mercato ha visto dal suo osservatorio di personaggio, ma in Serie D, di una grande società, finita anche in eccellenza, no? Sì, sì, noi siamo ripartiti dalla D. Il mister che è? Andreucci. Andreucci. Il mister Campodarso è arrivato secondo me tra Venezia nel nostro giro dell'anno scorso. E niente, solo oggi, perché la D non è il mercato dei professionisti. È venuto a intrecciare vecchi rapporti nuovi? No, sì, mi serviva un giocatore under e poi c'è la casa qua e quindi l'obbicina. Anzi, Mauro, ho dimenticato di chiederle dell'Inghilterra da dirigente. No, sì, è bello, è una bella esperienza. Ed era su Aron Channel, era la squadra? Nel Leito. Quanto ha fatto? Un anno, no? Sì, ho fatto un anno, sì. L'ultima curiosità, avevo promesso di no, ma mi dice come si fa a essere così bello nel calcio, l'etichetta? È un handicap quasi, nel senso che no? No di questi problemi, belli sono altri, io ce li metto i duri. 72, ricordo, 72, grazie.